Benvenuti o bentornati cinefili e presunti tali. Oggi ci inerpicheremo, ci avvilupperemo, ci scartavetreremo in un altro viaggio nei territori imperdi e nefasti della fantascienza. Ma come nei due video precedenti, che potete recuperare nel canale, non vi parlerò di quei film di fantascienza che hanno segnato la storia del cinema in maniera indelebile o che si inseriscono nell'intrattenimento popolare e più mainstream del genere. Bensì in questo nuovo viaggio andremo ad esplorare i territori meno battuti del filone fantascientifico, provando a riportare alla luce opere sepolte o a rispolverare quelle opere che, pur avendo carpito l'interesse dei cinefili del tempo, sono finite nel dimenticatoio e oggi sono come reliquie da riportare in vetrina. Eccoci dunque pronti per andare alla ricerca di 5 film di fantascienza alternativa da riscoprire. Puoi acquistare su Amazon il mio libro, Violent Cinema, trance di violenza nel cinema contemporaneo. Link per l'acquisto nelle info sotto al video. Nel settembre 1970, in Giordania, durante la repressione palestinese, un corrispondente britannico conosce Friendship, una donna androgina che dice di essere extraterrestre. Ma chi è in realtà? Una spia? Una pazza? O un vero alieno? Curiosa opera fantapolitica raccontata come un film da camera, con due personaggi a popolare la quasi totalità del film, una dei due e una giovane Tilda Swinton nei panni di Friendship. Pur con qualche verbosità, è un dramma che si occupa di questioni politiche legandosi all'allora attuale questione medio orientale e che riflette sull'utopia di un futuro pacifico per l'umanità e sulla forza delle donne come motore per regolamentare il mondo. Il regista è un ex documentarista e forse non possiede del tutto la mano dell'impostazione teatrale, ma il film, sconosciuto ancora e più in Italia, è comunque un interessante e affascinante resoconto serafico e un po' accademico in cui la distopia e la fantascienza si assimilano a questioni di spessore ben più profonda e di ricorrente attualità. Molti cinefili hanno senza dubbio sentito parlare di Hard to be a God, di cui vi ho parlato anche in una puntata precedente, opera fantascientifica dalla imponente caratura estetica e dall'inquietante e sepoltrale forza shakespeariana che si dipana nel suo universo da medioevo distopico. Ebbene, prima del film del 2013 del russo Alexei German, partendo dallo stesso romanzo di ispirazione dei fratelli Sturkakki, è stato realizzato nel 1989 questo adattamento a colori di produzione franco-russo tedesca. Pur essendo un prodotto piuttosto anonimo nella messa in scena quasi vicino ad un'operazione televisiva, resta comunque curioso notare la proliferazione del suo romanzo di origine in un qualcosa di più vicino al post-apocalittico primordiale. È ancora più curioso da notare la presenza nei panni di uno dei personaggi interpretati dal regista tedesco Werner Herzog, un motivo certamente in più per donare al film l'etichetta da riscoprire. Uno dei titoli meno noti del regista coreano Park Chan-wook, questo I'm Cyborg but that's ok, è una stallunata commedia che usa la fantascienza come visione alternativa alla vita quotidiana, come via di scampo dall'alienazione per la giovane protagonista, una malata di mente che si ritrova a riconsiderare la propria esistenza in una clinica credendosi un cyborg. Estroso e brillante è un singolare viaggio nei meandri della follia, della fantasia umana e della diversità che mescola la drammaturgia alla favola, la commedia al dramma, il grottesco al romantico, l'evocazione al volo pindarico, una giostra di colori e di sensazioni che procede tra molti alti e pochi bassi in uno dei titoli più bizzarri ed eccentrici del cineasta coreano e certamente si rivela un modo alternativo di usare la fantascienza, una chiave psicologica e freudiana. Una space opera di poco meno di un'ora di durata, suddivisa in tre capitoli o potremmo dire tre cortometraggi che compongono un unicum, che parte da un videoclip diretto in precedenza dal regista stesso per il musicista francese Carpenter Druze. Road Machines è un singolare poema fantascientifico che guarda al cinema e all'estetica anni Ottanta, divenendo un componimento visivo e sonoro ricercato e fatto di suggestioni di semi gettati in una narrazione relativamente interessante ma esteticamente predominante, una sorta di escursus audiovisivo in cui la forza scenica supera l'empatia e l'evoluzione verso il racconto. La trama pone al centro due cacciatori spaziali sulle tracce di una macchina ribelle, quando il fantasma di una donna fuoriesce dalla suddetta macchina iniziano ad inseguire lei nello spazio per capirne le origini. Un esperimento non riassumibile in cui sonorità e immagini valgono come esperienza soggettiva e personale ma di grande impatto sensoriale. In un ipotetico futuro i sogni si possono registrare su nastri VHS. Il governo ha pertanto istituito delle tasse da pagare sul materiale sognato e registrato. Un esattore si reca nella casa dai colori rosso fragola, da cui il titolo del film, di una donna che ha un conto da saldare e quindi dovrà visionare il materiale per il debito da riscuotere. Ma il lavoro che richiede giorni risucchia l'uomo in un vortice confusionario che mescola i propri sogni con quelli da conteggiare. Le proprie pulsioni e i propri desideri prendono quindi stranamente vita. Opera visionaria e distopica passata al Sundance Film Festival è rimasto ancora sconosciuto in Italia. È un piccolo film dai colori pastello e dalla fantasia sfrenata, capace di riflettere sui sogni e sulla libertà di essi, in cui vi passano riflessioni sui media e la pubblicità, divenendo un viaggio metafilmico, imbilico tra Kafka, David Lynch e Lewis Carroll, tra commedia fantascientifica e surrealismo, avventura spensierata e love story. E voi? Vi avete visti questi 5 particolari film di fantascienza? Vi invito a lasciare un commento sotto al video anche per favorirne la visibilità su YouTube con il suo algoritmo e per farci sapere quali altri film di fantascienza avreste inserito in questa categoria. E non dimenticate di lasciare un like se il video vi è piaciuto, in caso dovesse raggiungere una quota di 50 like, vi regalerò, se lo vorrete, una nuova puntata dedicata ad altri film di fantascienza da riscoprire. Ed ovviamente non dimenticate di iscrivervi al canale. E ora, linea al meteo e buon proseguimento con i programmi della nostra rete. Grazie a tutti.